la schiena dritta partiamo via andiamo tocchiamo 1 torniamo inspirando via 2 torniamo inspirando 3 abbassiamo la testa inspiriamo 4 torniamo inspirando la schiena dritta 5 piede a ballerina non ha importanza dove andiamo 6 importante che eseguiamo esercizio 7 la testa va giù torniamo la schiena dritta 8 torniamo la schiena dritta andiamo 8 volte a destra via fuori l'aria inspira e andiamo 2 non staccare i glutei 3 due piedi a ballerina guarda lo specchio 4 la schiena è dritta 5 la schiena è dritta 6 togli la pancia su con la schiena 7 inspira 8 più su fermi preparati ballerina la pancia dentro vai a sinistra e fuori l'aria vai blocca il bacino 2 vai 3 respira profondamente 4 la schiena dritta 5 apri bene il petto apri il petto 6 apri il petto 7 inspira 8 sulle braccia prendi l'aria vai avanti più lontano possibile e poi rilassati e cammina avanti avanti ovunque puoi allungati respira 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 respira